Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale e soprattutto buon anno perché siamo proprio agli inizi di questo 2022 che ci porti tanta serenità, tante salute e come sempre tanta creatività. Bene, oggi facciamo il tutorial di questo modulino qui, fronte e retro, che ho chiamato Celosia perché, come potete notare, lateralmente la sua particolarità è che ha un moto onduratorio, diciamo così, che mi ricordava proprio questo fiore che si chiama Celosia. Datelo a vedere su internet, magari se riesco vi metto sotto il link di questo fiore, è veramente particolare, ma di sicuro lo conoscerete già. Bene, questo è anche oggetto di due kit che trovate direttamente sul canale, sul canale, scusate, sul sito di Perlina e Fantasy in quanto è appunto oggetto di questa collaborazione che ho con Cristina di Perlina e Fantasy che saluto e che ringrazio e alla quale vanno i miei auguri di buon 2022. Bene, per realizzare questo ciondolo che cosa occorrerà? Allora, innanzitutto un rivoli da 14 mm, io ce l'ho già qua dentro, quindi non posso farvelo vedere. Poi serviranno delle paisley, o paisley, che dopo c'è sempre l'Angela, ciao Angela che mi scrida per la mia pronuncia inglese. Eccola qui. Sono veramente carine queste qui. Poi delle rocai 15 e delle rocai 11, io le ho usate in questa colorazione, ovviamente miyuki. Ok. Poi ci serviranno delle perle da 4 mm, delle perle da 6, non molte ma io avevo queste usate e queste e non ne ho più da mostrarvene. E una chiusura, t-bar, o quello che volete, insomma, se volete fare la collana come ho fatto io. Ho usato un farline da 0,15. Bene, questi erano gli ingredienti necessari per realizzare questo ciondolo. Vi lascio al tutorial, se volete potete trovare i kit con tutto già pronto e con anche un'altra versione sul sito di Perline Fantasy, vi metto il link qua sotto. E per il resto ancora buon anno e fatemi vedere, mi raccomando, tutte le vostre versioni, postatele, taggatemi, di modo che io possa ringraziarvi e vedere come le avete create voi. Mi raccomando, like a questo video e condividetelo. Un bacio, ciao! Bene, partiamo con infilare 7 perle da 6 mm alternate a 7 rocai 11.0, poi chiudo con un nodino e ripasso dentro la lavorazione. Ed ecco il giro è terminato, mi sposto dal nodino e uscendo da una rocai 11.0, metto sul lago 6 rocai 11.0 e mi infilo nella rocai a seguire, quindi salto la perla. In questo modo qui. Faccio così per tutto il giro. Ed ecco abbiamo ultimato il nostro giro. Adesso avete infilato l'ultimo archetto e attraversate senza mettere nulla sul lago le 3 rocai dell'archetto successivo, le prime 3.0. A questo punto mettete sul lago questa sequenza, siamo a metà dell'archetto, no? Mettete una 11, una perla da 4 ed una 11. Ora vi faccio vedere, ecco qua, una 11, una perla da 4 ed una 11.0. Portate tutto, accostando tutto al lavoro, saltate la rocai che avete inserito per ultima, rientrate nella perla e nella 11.0 e vi infilate anche nelle 3 rocai 11.0 che rimanevano dell'archetto sul quale ci stiamo trovando in questo momento, sul quale stiamo lavorando. Ecco, in questa fase dovete porre attenzione al fine che questa sequenza appena inserita non lasci del filo dell'asco come in questo caso, ma che sia perfettamente aderente al nostro archetto. Ora, anche se molle non importa, ora riattraversiamo la perlina di base, questa qui, e le prime 3 e rifacciamo di nuovo questa infilata ripetendola per tutto il giro. Ed eccoci a giro terminato, eccoci qua. Allora, adesso avete inserito l'ultima sequenza che è questa, siete riscese in queste 3 perline, in quella del giro iniziale, risalite nelle 3 rocai che trovate a seguire e anche in questa sequenza portatevi ad uscire da qui. Mettete sull'ago una 11.0 Oh, me le sono volate tutte! Mettete sull'ago una 11.0 e infilatevi nella 11 che sta sopra la perla a seguire. Non tirate troppo, avrete questo, non tirate troppo perché in realtà questa è la nostra incassonatura. Quindi ne mettete una qui, una qui, una qui, una qui e una qui, e a giro terminato metteremo dentro il nostro rivoli. Ed eccolo qua, il giro terminato, la nostra gabbietta è pronta, vedete che tirando si stringe. Allora, prendo il nostro rivoli, che bella questa colorazione, lo metto a testa in giù, in questo modo qui, metto il dito sopra e tiro il filo. Tirando, 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 vedrete che questo inizia a chiudersi. Ora, ripassate senza mettere nulla in mezzo alla lavorazione, ripassate a vuoto due o tre volte finché il lavoro si bloccherà completamente. Ed ecco, il giro è terminato. L'abbiamo stretto ripassando due o tre volte molto bene, ed ecco che il nostro lavoro è stabile. Di lato il profilo si presenta in questo modo e questo è il fronte. Anche se abbiamo usato delle perle da sei, come potete vedere, il nostro rivoli rimane ben visibile in tutto il suo splendore. Ora, riportandoci da dietro, abbiamo stretto bene, come dicevamo, siamo arrivati in prossimità di una perla, siamo risalite, e ora usciamo dalla prima che era della sequenza e anche da una in questo modo qui. Dobbiamo ricordarci sempre che durante questa lavorazione dovremo uscire dalla prima e avere davanti sempre due rocai 11-0 libere, perché non lavoriamo proprio in prossimità delle perle da sei, ma un pochino più verso il retro del lavoro. A questo punto dobbiamo mettere sull'ago due paisley, quindi io vi consiglio di posizionarle sul tappetino già come le volete inserire. Questa finitura è veramente strepitosa, infatti abbiamo, di questa qui, delle slushy strawberry, una parte piena e una parte, io la chiamo crystal. Decidete come volete metterle, cioè se sul fronte volete vedere la parte crystal o la parte piena. Io desidero vedere la parte crystal, quindi siccome sto lavorando dalla parte retro, dovrò posizionarle vedendo la parte piena. In questo modo qua, le metto così, foro basso, eccole qui, le porto alla fine del lavoro. Ora siamo in questo punto, dobbiamo lasciar perdere le due rocai a seguire e anche le prime due discendenti ci infiliamo direttamente nella terza. Ecco qua, tirando bene il filo, ecco che le nostre paisley si posizioneranno in questo modo qui e sul fronte ovviamente avremo questa cosa qua, bellissima. Ora, col filo, adesso vi tiro un po' giù per poter mostrarvelo, col nostro ago ripassiamo dentro e usciamo dalla prima e rinfiliamo un'altra coppia e poi rientriamo saltando la seconda, la terza, la quarta e la quinta rocai nell'ultima e faccio così per tutto il giro. Ed ecco che il nostro fiorellino è terminato, no, cioè questo giro è terminato, è l'ora del lavoro, anzi ancora. Questo è il fronte e questo qua è il retro. Ora abbiamo appena inserito questa coppia. Le paisley sono tutte un po' disordinate, è giusto così. Vi porto ad uscire dalla rocai prima della paisley. Eccola lì. Entrano in gioco ora le 15, quindi metto sull'ago una 15-0, eccola qua, e mi infilo nella paisley sempre foro basso e tiro bene. Ora, tra le due paisley metto sull'ago altre due 15-0, quindi sempre le 15-0, e mi infilo nella paisley a seguire. Il fatto che in questo spazio qua ne bastava una sola, invece ne metto due, è proprio per dare quell'effetto che come vediamo in questo lavoro già finito, i petali debbano assumere, cioè questa cosa ondulatoria. Quindi ho messo altre due 15-0 e mi sono infilata nella paisley a seguire. Uscendo ora dalla paisley, metto sull'ago un'altra 15-0 ed entro nella rocai che trovo subito dopo questa qui e tiro, aiuto, bene il filo. A questo punto, attraverso la rocai qua sotto, quella sopra la parola 4, la prima vicino alla paisley e rimetterò una 15-0 qui, poi una, due 15-0 qua e via di seguito fino a finire il giro. Ed eccoci a giro terminato. Le paisley iniziano a posizionarsi in questo modo, però andranno proprio a prendere la forma corretta quando faremo i passaggi successivi. Sembra proprio di avere in mano dei cristalli di zucchero. Allora, abbiamo inserito l'ultima rocai 15-0 al lato di una paisley. Ora vado a posizionarmi da questa rocai 11. Non posso avvicinare troppo, se no vado fuori fuoco. Vediamo un attimo. Ecco, questa prima della... finito un archetto prima di quella del giro iniziale e in questo caso metto sull'ago un'altra 15-0 e andrò ad infilarmi nelle altre tre che ci sono su... che trovo subito dopo. Così facendo andrò a creare questa puntina con la 15 proprio in prossimità del giro iniziale. Vediamo se riusciamo a vederla bene. Eccola qui. che è un po' una... diciamo, una chicca per rendere il lavoro più definito e anche al tempo stesso irrobustirlo un po'. Per cui, riattraverso le perline faccio questa cosa in prossimità di tutte le 15... di tutte le 11 del giro iniziale. Ed eccoci. Abbiamo inserito tutte le puntine qui. Ora, portiamoci ad uscire da una rocai prima della paisley qui e saliamo nel foro alto senza mettere nulla sul lago nel foro alto della stessa paisley. Qui si vedrà un pochino il filo ma poi con la lavorazione a lavorazione completata non si vedrà più. Allora, stiamo scendendo da qui, giriamo il lavoro. Stiamo scendendo da questa paisley, mettiamo sul lago... Mamma mia, si vede? Allora, siamo al centro delle due paisley, della coppia di paisley, mettiamo sul lago due, quindici, zero. Eccolo qua. Eccole qua. Ed entriamo nel foro alto della paisley a seguire. Accompagno in questa fase le paisley in modo che si posizionino nella forma corretta. Questo è importante farlo perché altrimenti non c'è spazio per inserire poi le altre perline. Ora, metto sul lago una quindici, una perla da quattro e un'altra quindici. Ora ve ne mostro. Eccoci qui, una quindici, una perla da quattro e un'altra quindici e mi vado ad infilare nel foro alto della paisley a seguire. Ah, ma che filo lungo! Ecco, perché nel frattempo ho cambiato il filo. ed ecco qua, così. E adesso faccio questa ripetizione inserendo qua dentro due quindici e tra le due paisley una quindici, una perla e una quindici. Tirate bene il filo in modo che si posizionino in questo modo qui. bene, allora, adesso abbiamo infilato l'ultima coppia, scusate, l'ultima sequenza di rocai quindici, perla rocai quindici e sono entrata dentro la paisley. Entro anche nella prima quindici zero che trovo a seguire e metto sull'ago una quindici. Entro nell'altra quindici zero ce la posso fare nell'altra quindici zero che trovo dopo in questo modo qua e tiro bene. Tirando il filo noteremo che cosa che qui sopra si sarà formato un archettino piccolo da tre. Questo servirà a dare un po' un vezzo in più alla nostra lavorazione e a irrobustirla perché adesso noi lo faremo per tutto il giro. Quindi passeremo a vuoto in queste perline ma quando ci troveremo in prossimità di questa coppia di rocai quindici metteremo la terza e così tirando passando un paio di volte sarà sufficiente anche perché quelle quindici zero non rischiamo di romperle passando troppe volte vedrete che il vostro lavoro si sarà irrigidito a sufficienza e avrà creato queste onde. Andiamo a farle insieme. Cioè, no, meglio voi lo fate io pure e poi ci vediamo alla fine. ed ecco ho ripassato perfettamente dentro tutti i passaggi perfettamente perché nel senso che non ho saltato nessuna parlina ho mantenuto la posizione delle paisley in modo come ci siamo detti a punta lo si vede meglio in quest'altro colore perché con questa finitura forse in video non riuscite a vederlo bene vedete che sono a punta e anche in quest'altra ecco come potete notare il fiore è fatto proprio in questo modo qui e a questo punto questa finitura mi piace tantissimo di perline veramente anche perché ripeto da quel tocco in più sembra ghiaccio sembra zucchero non so ora potete utilizzare questo modulo per fare una collana semplice per fare un bracciale potreste anche utilizzarlo come anello perché no un po' grande però come anello io vi faccio vedere l'attacco poi insomma sta un po' a voi farlo come desiderate ma vi faccio vedere l'attacco come ho fatto in questa collana qua anche perché nel kit avrete anche la chiusura e quindi potete sbizzarrirvi un attimino ecco per esempio qua io ho fatto questa sequenza alternata anche in questa qui ho fatto anche una lavorazione con le paisley che rimangono un po' a modo di fiorellino sempre con questa tecnica dietro che abbiamo appena visto però potete farla come volete insomma io la farò in modo molto semplice allora e come notate quello che volevo dire rimane bello rigido e bella questa forma così sapete che sono appassionata del tridimensionale allora usciamo da una 15.0 qui e iniziamo a fare una lavorazione per poter fare una catenella allora sto uscendo abbiamo detto da questa 15.0 in questo verso dall'alto verso il basso metto sull'ago 5.11.0 rientro nella stessa 15 nel verso opposto così e tiro bene ora riattraverso le prime tre 1 2 e anche nella entro anche nella terza e a questo punto faccio un cerchietto nuovo però questa volta mettendo sul lago solamente 4 rocai e rifacendo la stessa cosa entrando dal senso opposto eccoci qui avremo questo mi infilo nelle prime due magari per comodità posso anche girare il lavoro mi infilo nelle prime due tiro bene di modo che non ci siano spazi e posso partire con l'attacco della perla metto già una perla da 4 ce la posso fare una perla da 4 e una rocai 11 sempre è solo questo primo pezzo un po complesso dopo si va via veloci salto la rocai che ho appena inserito e rientro nella perla e nelle altre due 11 ripasso dentro la lavorazione ed esco dalla 11 qua sopra ecco siamo arrivati a questo punto qui e poi uscendo dalla perlina qua sopra potete inserire la sequenza di perline che volete o solo delle 4 perline da 4 anche quelle da 6 come desiderate alla fine mettete la vostra chiusura tibar la stessa lavorazione che ho fatto qui vi consiglio di non farla su questa ma saltarne una e di farla su questa per averla un po' più larga se poi volete fare anche una cascata portatevi dalla parte sotto cambiate filo finora abbiamo usato il farline da 012 mettete un miuki un sonoco insomma un po' morbido e fate una cascata sempre di queste perlinee il tutorial è finito spero vi sia piaciuto io vi ringrazio ringrazio di nuovo Cristina di perlina fantasy per l'opportunità che continua a darmi e continua a darci e niente spero di vedere tante di queste versioni di questo simpatico fiorellino realizzate da voi vi saluto abbraccio e a presto